Un uomo di 79 anni ha ucciso la moglie di 73 malata di Alzheimer e poi ha avvisato i vicini. Io gli avevo detto che non ce la poteva fare da sola, si doveva fare aiutare. Il dramma familiare si è consumato ad Arezzo in un appartamento di Viaggiotto al culmine di una lite tra coniugi scoppiata, sembra per un motivo banale, un bisticcio relativo alla lavatrice. Era a mezzanotte circa quando Alessandro Sacchi ha preso una vecchia beretta calibro 9 ereditata dal padre ma mai denunciata e ha colpito la moglie, Serenella Mugnai, alla testa. Poi ha suonato la porta dei vicini, l'ho ammazzata, gli avrebbe detto agitato. Sono stati i dirimpettai a lanciare l'allarme al 118 e ad avvisare la polizia. Ma per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Gli agenti hanno trovato il suo corpo in cucina, lui seduto poco distante. Una lite banale avrebbe spiegato l'anziano, una convivenza resa sempre più difficile dall'aggravarsi della malattia della moglie, avrebbe riferito. Lui mi aveva detto che la voleva mandare, non era in RSA. Io gli avevo consigliato di andare al diurno, mi aveva detto vado al punto insieme di via Curtatone, mi faccia sapere stamani, no. La coppia, senza figli, viveva in solitudine il disagio psicologico che da qualche anno aveva reso fragile la donna. L'anziano oxoricida avrebbe raccontato di non essere stato più in grado di gestire la situazione venutasi a creare con la malattia della moglie. Alessandro Sacchi è stato trasferito in carcere per essere interrogato. Alessandro Sacchi è stato trasferito in carcere.